mia moglie ha chiesto due settimane fa perché l'è a compleanno oggi e ha detto fai un bel regalo giochi contro sondoria e fai un gol questo fatto e questo è incredibile anche perché questo è vero questo è proprio nel derby è stupendo dedicato a chi? a Yvonne di nuovo anche contro Torino e lo sappiamo tutti no no perché lei mi ha chiesto fai un bel regalo perché l'è a compleanno fai un bel regalo segni e giochi Yvonne è tua moglie diciamolo sì sì Yvonne mia moglie sì scusa Ciao Ciao